E' una tradizione da sempre molto sentita nel territorio del comprensorio fanese, dopo tanti anni di pausa la festa del fagiano e della fragola si appresta a far rivivere la sua quarta edizione. L'evento infatti ripreso nel 2013 quest'anno si svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 giugno al parco di Fenile, una giornata in più in occasione della festa della Repubblica. La manifestazione è promossa dall'Associazione Quattro Quarti e dalla Fondazione Cante di Montevecchio in collaborazione con la Proloco Fanon Fortune. Ci crediamo, io devo ringraziare tutti quelli che hanno collaborato e che stanno collaborando con noi, la Quattro Quarti in maggior modo perché è assieme a noi e molti volontari che lavorano in modo che questa festa riesca sempre nel migliore dei modi. Speriamo nel tempo, mi auguro che sia una manifestazione sempre di gran successo come è stata gli altri anni, quest'anno un taglio culturale eccetera non siamo riusciti a darlo, ma per il futuro sicuramente è una manifestazione che dovrà crescere, cercheremo di allungare i giorni per il futuro e magari ci metteremo dentro anche un po' qualcosa di culturale e qualcosa sulla manifestazione agricola visto che siamo in una zona di verde eccetera accompagnata alla festa che fanno con la metitura eccetera, con l'esplosizione di macchine, macchinari, mezzi agricoli eccetera. Ma sono anche altre le novità perché una volta conclusa la pista ciclabile Trave e Fenile c'è l'intenzione di aprire il parco alla cittadinanza, in orari stabiliti e installare dei giochi per bambini, un chiosco con piadine e una struttura al coperto da 200 metri quadrati. Intanto se il bel tempo non dovesse aiutare gli organizzatori l'evento verrà posticipato alla prossima settimana. Come sempre è previsto un ricco programma e del buon cibo. Gli anni scorsi sono state preparate una media di mille porzioni di fagiano in soli tre giorni di ogni edizione. Oltre al normale programma dell'anno scorso si è aggiunta nella nostra associazione il ristorante Montecucco e quindi abbiamo veramente un menù come un ristorante. Questo vogliamo proprio dirlo ad alta voce perché veramente sono carni allevate da loro e poi cucinate, escluso il fagiano naturalmente perché è un prodotto particolare, tutto il resto è di loro produzione. Per gli appassionati di motori ci saranno i fuoristrada che nel circuito transennato daranno dimostrazioni di guida per i più grandi, per i più piccini invece, giochi e laboratori a cura dell'associazione Tira e Molla. Non mancheranno il motoraduno del club Dragone, saggio di danza di Taekwondo e l'intrattenimento musicale. Giovedì alieteranno la serata Fango e Icarta Carbone, venerdì l'orchestra Palazzi Group, sabato l'orchestra Spettacolo Fabrizio Guidi, mentre per la giornata conclusiva ci sarà Castellina Pasi. Quindi io invito tutti a venire a questa festa perché sicuramente si divertiranno e passeranno delle ottime ore nel parco del fagiano a venire. Grazie a tutti.